sicuramente la squadra da battere parte intanto il derby subito con il Barano andrà Ferri Quiriti saltella sulla linea di porta parte Ferri la battuta in porta per il vantaggio del Barano con il numero 4 Umberto Ferri in avanti sul petto di Accurso attenzione a Cerase che prova a far correre Matarese Matarese esce benissimo Quiriti, pallone Granato riceve anche se il pallone è un po' così Mangiapia poi prova pallone per Roghi al limite dell'area la girata al volo di Roghi molto fiscale il direttore di gara almeno in questi questo primo tempo battuto il corner pallone che passa occhio a Sirabella con il sinistro respinge ancora la difesa del Barano a curso il pallone però resta dei bianconeri De Stefano occhio a De Stefano c'è Diabacà tutto solo Diabacà sulla destra ball tiro respinto per Ferri che allarga ancora per De Stefano occhio a De Stefano al limite dell'area De Stefano il doppio passo super a curso De Stefano Quiriti della telecamera parte il secondo tempo mostreremo la sintesi nel Tg intanto Roghi dalla distanza la rincorsa Matarese la battuta pallone che passa in un primo momento poi c'è Rase con il Mancino lo respinge ancora Saurino poi Monti con la testa la giocata verso Roghi occhio a Roghi il suggerimento a cercare Cirelli Cirelli in area cerca la conclusione con il Mancino nel punto corretto come indica il direttore di gara Roghi intanto a scavalcare tutti finisce a terra e questo è un Sirabella chiama un po' di movimento da parte dei suoi compagni Granato Granato dentro l'area finisce a terra attenzione intanto a questo calcio ricevuto Cantelli e Roghi sul pallone va Roghi la parata di Mennella i Roghi da Alcasar sulla linea dell'area di rigore Roghi verso l'area di rigore Daniele Cantelli per il pareggio della Real Forio Cirelli Cirelli contro Trani Cirelli verso Cantelli ancora all'indietro da Granato all'arga di prima intenzione verso Sirabella Sirabella il cross di Sirabella con la testa non ci arriva nessuno alla fine Capone Capone ancora per Cantelli che si allarga Cantelli cerca la conclusione a giro ecco Roghi subito per Capone Capone ancora sulla sinistra prova ad accentrarsi Capone Roghi la conclusione la parata di Gigi Mennella innesca la corsa di Cirelli posizione regolare per Cirelli contro Monti ancora Cirelli prova ad andare verso il fondo Cirelli Sirabella ancora esce bene ancora Trani Desi ottima la giocata che fa andare Ferri da De Stefano De Stefano ancora contro a Curso si ripropone il duello la parata di Quiriti prova a rilanciare subito la propria azione attenzione intanto al Forio con Arezzo che supera Mennella Arezzo è incredibile e finisce finisce il match 1 a 1 allo stadio Salvatore Calise di Forio tra Real Forio e Barano